Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica. Possiamo notare come l'anticiclone da ovest dall'oceano e dalla Spagna cercherà di raggiungere l'Italia, ma saremo sempre un po' disturbati da infiltrazioni di aria umida oceanica da ovest. Contemporali anche durante la nuova settimana, il centro nord verso la serata. Andiamo al dettaglio quindi una giornata di domenica di bel tempo con ampie aperture del cielo sulle zone pianeggianti e di mare. Di nuovo però in serata temporali sono attesi sul nord-est e lungo l'Appennino. Ecco in sintesi la mappa più chiara per vedere quello che succede la domenica. Dicevamo bel tempo e clima estivo, massime tra i 27 e i 31 gradi, in serata temporali locali sulle Alpi, localmente anche la pianura veneta e friulana e poi l'Appennino ed il Messinese. Tutti dettagli precisi scaricando l'App di Trabi Meteo.